Attendere prima di prendere ogni decisione definitiva sul caso Fitto. Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo le dimissioni del Ministro per gli affari regionali a seguito della sconfitta del centrodestra in Puglia, sembra intenzionato a temporeggiare prima di sciogliere il nodo. Le dimissioni del Ministro Salentino, se da un lato rappresentano un gesto di coerenza politica, dall'altro per molti nasconderebbe una strategia. E in questa circostanza, secondo alcuni, Fitto avrebbe sparigliato le carti e anticipato le richieste di chi lo vorrebbe ridimensionato, dopo il flopo pugliese, assieme al senatore Francesco Amoruso e ad Antonio Di Staso, coordinatore e vice coordinatore del PDL in Puglia, che al momento restano in sella. A Roma, sul tavolo del Premier, sembra che in queste ore stiano arrivando fax e lettere di sostegno al Ministro Fitto, inviti a Berlusconi a respingere le dimissioni del leader del Popolo della Libertà in Puglia. Per domani è convocata alla riunione del Consiglio dei Ministri, ma Fitto potrebbe non partecipare, dando così modo a Berlusconi di spostare ogni scelta dopo Pasqua. Una mossa che giova anche al Premier alle prese con il sempre più probabile rimpasto di governo dopo l'elezione di Zaia, governatore del Veneto. Ieri intanto sulle dimissioni di Fitto è nuovamente intervenuto dallo studio di Porta a Porta il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che ancora una volta ha ironizzato sul ruolo di Fitto e sulla scelta del ministro del nome di Rocco Palese. Ma io devo molto al Ministro Fitto per la maniera con cui ha governato il centrodestra in Puglia in questi anni, per lo stile, diciamo, di una contesa politica a tratti barbarica. Il centrodestra difficilmente ha sopportato. Credo che le fratture, le crepe che vi sono state anche nel ceto politico del centrodestra, dicono di un disagio. Noi siamo stati anche molto attenti a guardare dentro ciascuna smagliatura e a provare a comunicare con quelle porzioni sia di ceto politico che di opinione pubblica che non riuscivano a ritrovarsi nello spirito da caserma che dominava nel centrodestra pugliese.